sembrare un discorso egoistico, però vorrei che questi signori mi spiegassero perché io soltanto per smaltire due fogli di una copertura che c'era probabilmente dell'amianto dentro, io non lo sapevo, quindi era stata acquistata e pagata e penso che ci sia tanta gente nelle mie condizioni, ho dovuto spendere mille euro e questi mi fanno respirare poi, se è vero quello che dicono, nell'aria con l'amianto dentro cioè non mi sono capito di quello, com'è che funziona questo mondo, io non riesco, non ce la faccio ed è un discorso egoistico questo, come il discorso egoistico, non so se qui c'è gente che va all'outlet che va lì all'iper e tutto quanto, quella strada è un ventilineo, le rotonde sono comode per me sembra di andare in alta montagna, scusatemi e buonasera